Dicevamo delle cose molto importanti, molto interessanti, viviamo un periodo dove è giusto anche analizzare quello che accade, quello che sta accadendo, quello che è accaduto, perché se noi non lo analizziamo, non lo commentiamo, non lo discutiamo con le persone, probabilmente tenderà a ripetersi un problema. L'uomo è arrivato a un punto dove è arrivato, non ha ancora ovviamente conquistato una totale libertà, non c'è ancora una unione tra i popoli, è tutta un'illusione, ancora oggi il professor del giudice, che purtroppo abbiamo perso già diversi anni fa, quasi dieci anni fa, però ci diceva che finché esisterà la competitività tra le persone, l'uomo non potrà mai pensare di stare bene, se io debbo lottare con te per un posto e quindi devo cercare di fotterti per prendere il tuo posto, oppure per prendere qualcosa, finché c'è questo genere di competitività, l'uomo è destinato ad un fallimento proprio del progetto di unione, del progetto di crescita reale, l'uomo non potrà mai crescere, tenderà sempre a autodistruggersi, guardate quello che vediamo sui giornali, qui sopra ci sono tutti i giornali, e vediamo solamente gli attacchi gli uni contro gli altri, se una persona che è mio avversario fa un qualcosa di buono, io devo trovare sicuramente il modo per distruggerlo, se fa qualcosa di buono per il popolo, per la società, io lo devo comunque distruggere, perché è un mio avversario, perché io devo prendere il suo posto, non perché ha fatto qualcosa di male, ma perché io devo prendere il suo posto, e se io dico che ha fatto una cosa buona, consolido il suo posto, soprattutto se è un politico, e quindi io non prenderò il suo, quindi il mio dovere non è quello di dire se ha fatto bene o male, ma è quello di denigrare a prescindere, tu curra, e questo è un atteggiamento allucinante, e noi questo dobbiamo spiegare al pubblico che ci ascolta, di guardare con occhio critico tutto quello che viene propinato, perché nel passato abbiamo visto, soprattutto negli ultimi due anni, delle cose oscene. Prima citavamo una persona che ci ha scritto, perché noi abbiamo preso un collage e Armando Schiaffini ci ha scritto, dice sono stato io quello che l'ha fatto, grazie di aver preso, mi piacerebbe che mi citaste, ti abbiamo citato, abbiamo già detto, prendiamo delle cose dai tuoi collage, per fortuna tu probabilmente avevi il tempo di farlo, li prendiamo e alcuni pezzi riprendiamo, gli originali che noi abbiamo ovviamente nel nostro archivio, e li riproponiamo anche ad una qualità migliore che le persone possano vedere bene, e li approfondiamo anche, perché su alcuni di questi ci sono delle cose veramente oscene, sulle quali è giusto riflettere, pensare e parlare. Ieri abbiamo visto quello della giornalista Murri contro Zeno, che è veramente imbarazzante, allucinante, oggi ne vediamo un altro, di un medico che è intervistato da una povera intervistatrice, a lei diamo il beneficio insomma dell'insipienza, ecco, intesa in senso buono, cioè purtroppo probabilmente è poco adeguata a quel mestiere, era poco informata, ha detto delle cose allucinanti per presentare quello che invece è un medico, che poi sulla questione vaccinazione obbligatoria, soprattutto per i medici, ha detto una cosa, che in un paese civile lo avrebbe fatto non solo radiare dal suo ordine, ma addirittura cancellare da qualsiasi trasmissione radio televisiva, perché è un problema, a mio parere, anche per l'ordine pubblico, e però invece questo non è accaduto. E io credo che oggi sia giusto riproporlo e poi chiedere anche il commento di Alessandro, perché queste sono quelle cose che vanno ricordate e che vanno valutate per quello che sono oggi anche alla luce di quello che è accaduto. Ripeto, per la giornalista c'è un attenuante, per il medico no. Vediamo per cortesia. Anche il tema dell'obbligatorietà, perché è impensabile che un operatore sanitario, che un medico, che un'infermiera che opera appunto in un ospedale, piuttosto che in una RSA, dica no al vaccino, perché per quanto mi riguarda allora dovrebbe andare a fare un altro lavoro. Ma baci tu a fare un altro lavoro. Di anziani infettati, alcuni sono anche in condizioni molto gravi, di questi giorni lo dimostrano. Come si può fare, professore? Sono una minoranza dei colleghi e nel contesto, come in tutti i contesti lavorativi e della vita delle persone, ci sono eroi, c'è gente che si spende e ci sono dei vigliacchi, perché non vaccinarsi potrebbe voler dire essere imboscati, come succede in guerra. A suo tempo i soldati venivano fucilati sul posto se non andavano alla guerra. Era trucido a questo meccanismo devastante nella guerra rispetto al fatto di dover attaccare. E quindi io credo che davvero è l'elemento che fa pensare anche male alla popolazione, perché se il mio medico non si vaccina, perché dovrei farlo io? Lui che sa qualcosa di più. Hai capito Alessandro? Cioè bisogna fucilarli, i medici imboscati, i vigliacchi che non si sono vaccinati. E bisogna dire alla popolazione che quelli sono degli stronzi. Hai capito? Questo ha detto questo signore, no? Io ripeto, attenuanti per la giornalista che probabilmente a mio parere non sa fare il suo mestiere, doveva informarsi che era una puttanata, così come lo eravamo informati noi, che ci eravamo informati dalle persone non in conflitto di interesse e sapevamo la verità, avrebbe dovuto saperlo anche lei, ma gli diamo l'attenuante dell'incapacità, ok? Ma al medico che io non voglio neanche nominare, no, lui no. Ma io credo, io credo che le frasi di questo povero uomo non meritano neanche di essere commentate, perché si commentano da sole. E però continua a parlare. Mentre invece, e lo so, però purtroppo il mondo è così. Però devo dirvi che vorrei utilizzare la risposta a questa cosa qui, non per rispondere a questo povero uomo che evidentemente non sa neppure di che cosa parla, ma di qual è stato il vero problema intorno ai vaccini RNA e a quello che è accaduto anche su questo vaccino Covid. Perché già si sapeva, ci sapeva in partenza, lo si sapeva già sui libri di microbiologia minimamente aggiornati, che l'introduzione di tratti di RNA artificiale produceva inesorabilmente dentro l'organismo delle reazioni tipo infiammatorie ed immunitarie di cui noi vediamo gli effetti con le morti da vaccino, che peraltro sono soltanto penitenciate. Che è quello che ti dicevo prima, che mi spiegò Montagné fin dal primo giorno. Ma questo, io credo che questo povero uomo, che forse non prende neanche in mano i bollettini delle case farmaceutiche che lo finanziano, credo che parlasse così a vanvera sulla base di un sentito dire e quindi fosse lì per rispondere ai suoi datori di lavoro. Quindi lo rispetto perché, come diceva, un mafioso che ha avuto modo di periziare una volta in un supercarcere, tutti abbiamo due occhi con cui guardiamo, sotto abbiamo un naso e tutti abbiamo una bocca con cui dobbiamo mangiare. Siccome questo povero uomo deve mangiare anche lui, lo rispetto, come rispetto anche un mendicante, quindi non voglio neanche entrare in discussione. Però invece lui, chi invece studia un po' di cose, sapeva che l'introduzione di tratti di RNA artificiale producono infiammazioni, tanto che i laboratori di biotecnologie oggi stanno studiando tecniche di RNA non infiammante, per esempio mettendo la molecola di RNA in un circolo e aumentandone quindi l'emivita e diminuendo l'immunocompetenza, cioè le reazioni infiammatorie che producono, come vedete, nelle reazioni della proteina spike o quello che vediamo negli infarti o quello che vediamo nell'incremento della velocità della crescita dei tumori, cioè quello che si sta vedendo in modo diffuso. E io penso anche i padroni di queste case farmaceutiche ci staranno ragionando, cioè calcolando quali potrebbero essere i modi per attenuare questa erovazione. Una, per esempio, è mettere in circolo la molecola, un'altra è metterci certi tipi di adiuvanti, però questi tipi di adiuvanti producono altri problemi. Cioè voglio dire che il boccone è talmente ghiotto che ci si deve ragionare attenuando gli effetti. Col vaccino a DNA hanno fatto la più grande sperimentazione che si potesse fare gratis, utilizzando cavie gratuite, utilizzando un brevetto militare del DARPA americano, facendolo vendere a Pfizer, a Moderna e soprattutto, come dire, nascondendo gli effetti. Capito? Perché poi questi vaccini la gente ha firmato delle liberatorie, non solo non dicendo quali potevano essere gli effetti collaterali, ma dicendo che non li conoscevano. Ed era scritto. La gente ha firmato che chi glieli faceva non conosceva i possibili effetti collaterali, però l'essere umano è così. Purtroppo la gente è colpevole perché ci crede. Questo è il vero problema. Cioè la gente, anziché fare uno sforzo e provare cosa è stato detto, cosa vuol dire RNA, cosa vuol dire reazioni infiammatorie, cosa vuol dire immunità, basta che glielo dica la Venier o il Papa, e dice, se l'ha detto il Papa, se l'ha detto il Presidente della Repubblica, se l'ha detto la Venier e se l'ha detto questo minicchio, e lo dobbiamo fare, capito? Non solo, ma poi l'hanno veicolato anche come un atto di responsabilità sociale, come un dovere sociale, salvare i vecchietti, salvare i nonni, salvare gli zii, salvare i cani da passeggio. Cioè è successo un delirio psichico prima ancora, perché poi la cosa era nota, il fatto che l'RNA artificiale inoculato producesse una reazione infiammatoria patologica, era noto persino a uno studente del quinto anno di medicina, capite? Assolutamente. Allora, cosa è successo? Cosa è successo? Ditemelo voi cosa è successo, che siete esperti di media. Una specie di delirio collettivo fomentato da dei delinquenti.